per porno ok me ne hai preparati giusti pochi eh eh si giusto per testare le varie morti oh ca... pollo? un pooooooooooooooooooo ho trovato del po sia a cotto che crudo tra l'altro poi ah che figata eh però ah ho preso anche quattro livelli bene poi perché non vedo un cazzo di ikimoto slowness, nausea blind te lo spiego dopo aspetta che devo cambiare tutta la question atmosferica che pack di merda va a fa culo superbus sono sicuro che è colpa tu ikimoto ma va a fa culo che cazzo vuol dire? eh devo portare devo portare via i creeper mi sono fatto esplodere dio cristo dove sono i cosi? no ma va cosa? ma se re re 400 metri di distanza allo spompor eh eh non so che cazzo dirti ikimoto evidentemente c'è qualcosa lì vabbè siamo qua nel deserto va facciamo prima ah eh ok in caso di morti accidentali si accidentali prego seguitemi nel deserto si arriviamo che bello è una guida turistica dove cazzo sei ikimoto porco ah eccoci qua bene continuo neanche si stanno caricando ancora eccoli qua proviamo col primo è venuta fuori una testa di cazzo ecco sono un pirata senza la barba vediamo un po' che bello che sono mamma mia ragazzi allora proviamo col secondo un arco un arco eh guarda cosa c'è dentro power 5 punch 2 flame 1 infinity 1 un breaking 3 beh fa un po' schifo il cazzo devo dire poi abbiamo delle uova di spawn cavers butt e slime quindi direi di fare così giusto per aumentare il random plop 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 si ikimoto 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 pensaci tu ikimoto non ci sono le frecce ikimoto quindi anche cazzo fa un po' cagare eh quell'arco mi dicono bene lei continui pure che io intanto ti ho fatto con ikon allora qua ho trovato carote well there is your problem nooo mi ha spawnato un bedrock ahahahahah ma vaffanculo ho libri perchè la sapienza è sempre qualcosa di buono eh così puoi farti l'angolo della cultura anche tu tieni e poi sto giocando a fare il cecchino oh secchi secchi d'acqua secchi di lava secchi di piscio no veramente sarebbe latte comunque ah vedo che sei intelligente preparato tieni poi abbiamo è caduto un blocco d'oro e questo ci va bene no 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 ma almeno stanno morendo tutti nella merda sto arrivando aspetta che te li puoi mi sento solo super boost ma guarda come muoiono tutti nella merda ma 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 sono fortissimi qua che pack del cazzo no sono 20 solita vita 20 punti vita si le balle sangri si droppano cose che fico ecco grazie aichimoto che cos'è questa roba allora aspetta boh se so e faccio una riga anche per te che questo pecore un sacco di pecore pepe mister rainbow mister rainbow mister no ci sono un sacco di pecore qui niente guarda che spam visivo ti prego oddio c'è anche un cazzo di ahhh è quello da dove vire fuori ikimoto ikimoto sa ah ah credo di star laggando un pochettino no ma è una tua impressione che mira che ha ikimoto maledizione sei un cechino io continuo eh mica faccio l'assassino a casa eh è bravissimo qui c'è un disco rotto ma i dischi sono molto vari comunque oh puttana miseria che colpo allora sono stato spawnato all'interno di una di una struttura tipo di come si dice di smooth sandstone piena di altri lucky box allora questo ho preso mele ma basta uno uno di quattro ti fa morire sicuro ah si allora ma fa cura scusa non so qual è la prova dai vabbè ormai cazzo allora pling lucky chicken devo ucciderla non ti da un cazzo di particolare buo sport fai attire tutti i testi qua non so io ero un po' di box ho un paio di pantaloni di diamante e quindi se tanto mi da tanto l'ultimo è quello che mi fa crepare giusto teoricamente si io ho scelto un attimo ho dei pantaloni protection 4 file protection 4 blast protection 4 proietti protection 4 tors 3 a breaking 3 non so muore lo stesso fidati via via non c'è niente cazzo di me cazzo ho trovato un sacco di attrezzi di pietra comunque allora proviamo il prossimo pericoloso altri libri ok torte bene poi attrezzi di ferro questa volta mi prepari un attimino alla cassa dove buttare tutta sta merda la città la città la città fatta una famiglia fatta per lo zombie riferimento italiana armature per i cavalli corca ma carabasco ma perché perché sta roba come si si mette in creativo e cazzo cosa hai fatto e basta no basta porca puttana ma guarda quanto cazzo si precipita tra l'altro vaffanculo ciao basso è stato speciale bam e anche basso ecco dio sono fantastico si si è proprio fantastico cazzo avevo proprio bisogno di di un modo per bestemmiare all'interno di questa cazzo di serie già tipo non era bastato oddio ne ho rotti due ne ho rotti due ah no perché ero in creativo ok mi son pigliato male ploc un arco con anche qui punch power infinity merda no 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 che cazzo qua meno male che ha lagato se non morivo soffocato boom lana ah grazie com'era ecco che sì 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 che città è il patto non lho rosso bosma cameron cazzo sei una caramita naturale poterstà girandola tutte ma c'è nel senso una persona meno sfigata che casino bene io continua prego prego attrezzi d'oro molto fortunato si boom orca ma dai non è vero non ho fatto tempo a prenderlo cazzo ma dai ma per favore ma che cazzo di roba è orca ma dai ma esplose anche la cesta di diamante ma cosa sono caduti i fulmini cazzo non mi sono neanche reso conto di che cazzo è successo che cosa 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 ha fatto ma hai fatto volare tipo tutti i blocchi di quest'area una cosa del genere allora ma basta ma perché esplodo a caso ma dio e ma dai che cazzo di giarpame diremmo a jolly che sono esperimenti ah basta i chi che mi figlio male ping pong bene dove eravamo rimasti e la tua è una riga più corta si si allora una cassa con dentro un sacco di merda un iron bucket of force un artiglio forza steel electrical steel e una pila di ceneri facciamo passare due secondi perché tutti quanti pensino a quello che nessuno ha il coraggio di dire benissimo passiamo ad altro un secchio di carne morta e un non è possibile ikimoto il moto giusto aspetta ikimoto giustificami questo eh niente ma non c'è ma c'è una c'è un'altra ma c'è un'altra riga di qua tutta tua ma dai ma che cazzo va bene bimbo io faccio così no 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 eh si cristo e vabbè che cazzo però sto arrivando tanto sono a dieci passi non mi ti si tranquillo ecco grazie va bene però almeno i ferrograti si insomma no porco eh si ma cosa sono tra l'altro aspetta un'altra azione che trovi a volte che cazzo sono altare max è l'altra riga ok stepo spy pigment ok brrrrrr quel verso lo sento sempre quando vado in chiesa ma ma cosa un'armatura di pelle max bank tu sei la tua riga ma dai ma scusa nati ma tu non puoi mettere in una serie sensata questi cazzo di blocchi cioè uno ne colpisce uno ikimotors dica non sono mettibili all'interno di una serie sensata sti cazzo di blocchi cioè metti che ne trovo uno mentre sono in mare aperto penso che non so pozioni varie di tutti i tipi slowness fire resistance pins slowness weakness fico ma che cazzo ma allora ikimoto bisogna un attimino fixare il ratio con cui queste cose tipo cagano merda perché non è possibile che ma non è possibile l'apocalizzazione prima veniva solo robe fighe adesso facciamo il tuo insustizio il tnt i zombie c'hanno con non solo tnt guarda bene ho già visto prima questa cosa no 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 aiutami ma ieri ieri no armatura d'oro blocca armatura d'oro blocca blocco di ferro posso buttare su porno no 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 ma basta adesso ho capito cosa fa evoca un creeper gli fa cadere sopra poi esplode perchè un charge is the creeper madonna no 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 ma dai aspetta ma sei libero si aspetta un po' ma l'ho fatto anch'io perchè mi son rotto le scatole visto ma parco di eh eh cazzo quindi non posso quindi non posso diamanti cioè nel senso piccone di diamante e zappa di diamante never spender damo no 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 oh oh 1562 usi una zappa di diamante sembrano tanti io non faccio una cosa senza prezzo una cassa con dentro cose stilax force shard ma che cazzo sta tipo sto pacchetto ha tanto di quella merda che metta basta veramente oro un casino d'oro ma che cacchio un paintbrush zucche enderman armatura di diamante con tipo tanti di quelli ma scusa un attimo ikimoto ma dove sei dietro ai te dimmi se hanno senso tipo oggetti del genere d'accordo lo so lo so li hai già visti porca puttana no ma basta ma tipo on shot a sta cosa ma che schifo dai uffa è equipaggiato con le stesse armi e le stesse armature che ai te vabbè terminator d'accordo è venuto tipo dal 1996 per uccidermi cristo santo adesso ste cazzo di armature me le metto aglio ho anche uno il metto ok ma scappa cristo ma si ma mi one shot anche con l'armatura di dio allora nel senso i maiali bus scappa cazzo cazzo busi ha fatto 3 danni non so con cosa cazzo l'ha colpito 3 con un libro con un libro la sapienza uccide attenzione ne uccide più la penna che la spada non ne uccide più tua mamma che è annosco si cosa avete fatto sono talmente morto che i miei resti sono ancora che volano raiden was blown up by raiden c'è oh oh cavolo stato piacere bus questo è fantastico cosa è successo si è aperto una voragine ah la voragine con la lava sotto si l'ho presa tipo 2 o 3 volte ma non sempre c'è la lava dipende dai giorni ma cosa dipende dai giorni traito sguimmito lava una spada di diamante patate che cazzo è? un blocco di smeraldo ah quello è carino lucky sword di tutto anche questa qua è la stessa che diamo one shot il krill grazie la prossima volta tenterò di colpirlo prima io ciao bus cazzo cazzo ma cosa di nuovo un blocco di bedrock pesci che era quella? un blocco d'oro ah pesci no 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 ho trovato dalla rotten flash fantastico uno stick addirittura comunque sia quella spada one shot anche gli zombie quando sono nemici insomma una zappa lucky shovel detta anche ho che in inglese significa troia ouch cos'è stato? complimenti hai trovato due blocchi di smeraldo già boh ichi mi sono rotto le palle proviamo magari a testare questo pack in maniera più che ca' z testiamo questo pack in maniera più intelligente esatto allora come si scriveva scusa. guardate che merda n.o carriamo amore il plat non ciò poi lo volete bus che muore alle ultime due ceste madonna santa un basta basta basti timo per favore che lo vedi arrivare dai cindro ti prego per me teoricamente sei un blocco in mano basta che metti la coppia sto sopra la testa sei salvo teoricamente pulsate in iron paint brush lo staff of traveling mi ha tolto le ultime due dai bus no il cazzo eh ikimoto c'è sempre la cazzo di lava in sto schifo di voragini grazie diciamo dipende dai giorni dipende dall'umore di tua mamma quanto succhia aspetta che adesso vengo io a farlo scusa cosa succederà mai ma se apri quel lupo a testa di zombie niente di che no scusate ero in creativa bello and portal sono sempre in creativa ciao 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 ok io rompo l'ultimo bene cazzo è questo blocchi vanilla di merda cosa blocchi vanilla di merda è un beacon block lo smetti di cacare sti cazzo di cosi ikimoto mi sembra è questo quello che stavo aspettando ma non c'è veramente limite al peggio in sto schifo ikimoto io non la voglio sta mod possiamo parlare con jolly ikimoto e penso sia andato dall'avvocato jolly jolly faccia saliti di culo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti